allora facciamo facciamo formare il pubblico al volo perché vedevo di una cosa importantissima regà anzi io vi prego di condividere e di far girare questa diretta perché è una cosa che ci tengo in particolar modo allora diciamo diciamo questo diciamo questo siccome io sono un bravissimo ragazzo che sono anche molto altruista allora dopo dopo la diretta che ho fatto con algero la prima diretta che sicuramente avete visto tutti io e lui vi dico la verità dopo un paio di giorni ci siamo incominciati a sentire che cosa è successo è successo che io al di fuori dei social quando non era in diretta quando non era pronti via o stava facendo una storia lui al di là dei social era secondo me una persona che che meritava e vi dico la ci siamo sentiti anche anche spesso però che cosa è successo è successo che ieri ci siamo visti ieri siamo andati a torbella monaca e io l'ho fatto chiarire con tutta torbella monaca perché questo ragazzo in passato veramente ha fatto i danni con la bocca ha fatto i danni con la bocca ha dissato tutti ha preso per culo tutti e va bene anche al di fuori mi sono state dette alcune cose che lui anche al di fuori dei social ha creato che cosa è successo noi siamo stati insieme tutto ieri io veramente ho visto una persona che meritava io al di fuori dei social ho visto una persona che veramente meritava vi direi se se io se io vi dovessi dire qualcos'altro io ve lo direi io ho visto una persona veramente sola una persona che comunque mi faceva tenere il sapore vedi che la verità io sono un ragazzo che comunque cerco di aiuto a tutti quanti e ieri vi ripeto siamo andati a torbella monaca e ci sono testimoni i ragazzi dell'r3 i ragazzi dell'r3 io l'ho portato lì l'ho fatto chiarire con tutti perché lui ha dissato gente brutta di là ok poi siamo andati a cena siamo andati a piastra trilussa tutto ovviamente pagato dal brasiliano perché l'ncc ho affittato il vito vabbè ma questo non importa ok andiamo a dormire io questa mattina appena apro gli occhi mi chiama un mio amichetto dello stadio e questo ha creato un'altra cosa allora io non mi posso io non mi posso schierare con questo ragazzo perché non è un componente della mia famiglia io non mi faccio sparare per l'altri io mi faccio sparare solo per la famiglia mia allora quello che io voglio dire a quello che io voglio dire questa persona ormai ha fatto troppi danni è indifendibile io chiedo scusa chiedo scusa io dovete condividere questa diretta perché io chiedo umilmente scusa quando ho fatto i video è intoccabile è intoccabile ormai i danni hanno fatti io non sapevo che avesse fatto tutti sti danni regà nulla sapevo nulla sapevo non sapevo che avesse fatto tutti questi danni io mi ero giurato che io comunque lo potevo far cambiare lo volevo far cambiare io lo volevo far cambiare ma non per interessi a regà io guadagno abbastanza quindi a me non mi serve lui come non mi serve nessuno però quando l'ho sentito avevo visto una persona sola una persona che aveva bisogno di affetto e io l'affetto io lo potevo da soltanto che poi escono delle cose che è indifendibile regà è indifendibile io non posso fare nulla perché tre giorni ci siamo sentiti cinque giorni attaccati e cinque giorni sono successe una volta ai guardie per quello una volta ai guardie per quell'altro una volta ai guardie per cane una volta quelli da Torbella Monaca una volta quelli della Maiana non ce la faccio più allora io alzo le mani io chiedo umilmente scusa se mi sono intromesso con le persone alla quale questo ragazzo ha fatto dei sopprusi delle prepotenze o gli è mancato di rispetto io veramente io vi giuro ma no perché io non ho paura ragazzi il brasiliano non ha paura manco della morte quindi non ho paura di nessuno però non è giusto non è giusto che io ci vada a rimettere io ho fatto un cammino io ci ho messo 24 anni per i piamme adesso mi sto riprendendo adesso mi sto mi sto riprendendo adesso sto lavorando sto ho imboccato la letta via arriva questo con cinque giorni mi aveva invaso il cervello di malavita un'altra volta un'altra volta perché io mi sono levato dalla strada questo cinque giorni mi ha fatto ripiombare nella malavita a 360 gradi ci io posso giracca la scorta perché c'è sta lui parlamo sei chiari io non posso andare a piazzare di lussa che la scorta ma io non mica non mi ha fatto la spia io non mi do proteggere da nessuno io non mi do proteggere da nessuno ieri per andare a piazzare di lussa io ho fittato la scorta e non è possibile io non posso finanziare la scorta perciò allora ricapitoliamo io chiedo umilmente venia per tutte quelle persone che sono state offese da lui e io questi giorni lo stavo proteggendo non si merita la mia protezione ma non mi sto rifardendo perché al gero al gero vale al gero è un ragazzo che al di fuori dei social è un ragazzo molto valido ve lo giuro su quello che ho sul sulla cosa più cara che ho al gero è un ragazzo eccezionale al gero al di fuori dei social è una io ve lo giuro però non si può fare io ci ho messo vent'anni per riprendermi questo io chiedo scusa a tutti ognuno basta da sua regà hooo ciao ciao ciao